In questa settimana dei nuovi episodi di Terra Amara, la soppopera turca, inonda su canale 5 dal lunedì al sabato a partire dalle 14.30. Riserva ai telespettatori una serie di appuntamenti ricchi di sorprese. Nelle anticipazioni che vi presentiamo, Depir è in prigione con l'accusa di aver ucciso Saeed, viene liberato da Fekeli, ma dopo un'accesa discussione con la madre, prende con sé Zuleyla e il figlio e abbandona la casa. Demir compra un'altra casa. Terra Amara anticipazioni. Demir, dopo aver parlato con Unkar ed essersi sentito accusato del fatto che gli ha nascosto la verità sulla morte di suo padre, è veramente molto alterato. Decide di lasciare con tutta la famiglia, cioè Zuleyla, Adnan e anche la tata appena arrivata, la villa in cui vivevano insieme alla madre Unkar. Dopo aver vissuto per poco tempo in albergo, si rende conto che deve trovare una sistemazione consona e comoda per la moglie e il figlio e così decide di acquistare una nuova villa e subito dopo Demir chiede a Zuleyla di farlo diventare di nuovo padre. Nella trama della soppopera turca si verificherà che Fekeli, che è il suo acerrimo nemico, non sopporterà che una persona innocente possa rimanere a marcire in carcere e così si attiverà per dimostrare che ad uccidere Said non è stato Demir, ma è stato suo cugino per poi impossessarsi del suo orologio, che era il bene più prezioso di Said. Dopo questa scoperta da parte di Fekeli, Demir verrà scarcerato e tornerà alla sua villa e lì si ritroverà faccia a faccia con la madre, la matriarca, che lo rimprovererà per aver nascosto la verità sulla morte del marito. Hai detto che Fekeli gli ha sparato quando non aveva una pistola e hai mentito, tuo padre aveva una pistola. Hai fatto passare due decenni in prigione a quell'uomo quando non se lo meritava, sbotta ferocemente la signora contro Demir. Il proprietario terriera a questo punto accuserà la madre, scaricando su di lei la sua rabbia perché lei non ha creduto un attimo alla sua innocenza, reputandolo colpevole dell'omicidio di Said. Inoltre aggiunge che per quanto riguarda Fekeli lui rimane l'uomo che ha messo fine alla vita del padre, dopo quella notte in cui si sono incontrati ed hanno discusso. Dopo questo confronto il marito di Zulella rimarrà molto deluso dalla madre Unkar e proprio non capirà quale sia il motivo profondo per cui lei si sta battendo così intensamente per cercare di dimostrare l'innocenza di Fekeli. Se ti piacciono i contenuti di questo video e trovi interessanti i nostri argomenti ricordati di lasciarci un like ed iscriverti al canale per continuare a seguirci. Il dialogo già di per sé abbastanza infuocato assumerà anche dei toni decisamente forti nell'istante in cui Unkar metterà Demir di fronte all'evidenza di una sua non verità e gli chiederà per quale motivo lui circa vent'anni prima avesse corrotto i tre testimoni dell'assassinio del padre Adnan per far sì che Fekeli venisse condannato senza poter usare la legittima difesa come arma. Prepara le valigie e lascia la villa insieme alla moglie dicendo a Zulella che non vuole più vivere sotto lo stesso tetto della matriarca. Al calare della notte la coppia vanno ad alloggiare in un albergo di Adana insieme al piccolo e dalla tatta. Il giorno successivo lo Yaman sarà ancora più determinato a costruire un futuro insieme a Zulella, lontano però da sua madre, mentre Zulella sarà confusa e non capirà proprio il motivo della lite tra lui e la suocera. Unkar è convinta che il primo genito possa tornare abbastanza velocemente quando all'improvviso vede la sua macchina arrivare alla tenuta. Pensa dentro di sé, sapevo già che saresti tornato presto. Gli occhi della matriarca brillano di gioia poiché crede che il figlio sia tornato. Quando capisce che dentro a quell'auto sono presenti due dipendenti di Demir, la signora è amareggiata e chiede agli uomini dove si trovasse lo Yaman. Uno di loro gli rivela che sta eseguendo l'ordine del signore di portare via la macchina di Zulella. Passano i giorni ed Demir è sempre più determinato a non vivere più con sua madre. Lo Yaman, dopo aver soggiornato per un po' di tempo in hotel, mostra a Zulella la casa che lui vorrebbe diventasse la loro dimora ed acquistarla per il loro futuro. Nonostante la sua decisione di volersi allontanare dalla madre, Zulella non è molto contenta da quel punto di vista. Demir è citato però le organizza una sorpresa e l'accompagna proprio nella villa e la fa vedere tutto l'interno, la villa che vuole comprare ed anche ristrutturare e le spiega che nei suoi progetti la casa avrà qui il parcheggio, lì c'è un giardino, qui c'è una sala giochi per il nostro figlio e dopo aver mostrato la casa a Demir chiede a Zulella qualcosa che la lascerà un po' confusa e che di certo lei non si aspetta. Demir le chiede che lui vorrebbe allargare ulteriormente la sua famiglia con un altro figlio. Mi piacerebbe molto che tu mi regalassi questa nuova opportunità. Lei rimane letteralmente senza parole, ammutolita e non sa proprio come rispondergli poiché sa che lui è sterile, così gli ha detto Unkar, e che non può avere figli e di fronte a questa richiesta inaspettata si agita molto perché questa cosa potrebbe portare Demir a scoprire la verità su suo figlio Adnan che lei gli ha sempre tenuto segreto. Infatti risulta che lui è il padre di Adnan sulla carta, ma in effetti il vero padre è Ilmaz. A quel punto Zuleyla cerca garbatamente di cambiare discorso e distrae Demir con altre cose. Ma cosa succederà da qui in poi? Nel proseguo della SOP vedremo diversi cambiamenti. Yaman manifesta l'intenzione di voler tornare dalla madre, ma non sarà una decisione delle più semplici. Demir sarà deciso infatti a ritornare sui suoi passi e ricredersi sulla sua decisione di essersi rifiutato di tornare a casa. E aver detto alla moglie Zuleyla di voler andare a vivere con lei e il picno Adnan in una villa, da soli e lontano da sua madre. Il rivale di Akaia inizierà ad avere dei forti dubbi, dato che manifesterà la volontà di tornare alla tenuta di famiglia, che gli manca troppo, facendo capire chiaramente di sentire la mancanza della madre Unka e della nonnina Azize. Ma ci aspettiamo ancora incredibili sorprese per i prossimi video e con le anticipazioni già in cantiere. Ma per vederlo ricordati di iscriverti al canale e regalarci un tuo like al prossimo video. Grazie a tutti.